ciao a tutte oggi nuovo video tag dal titolo se i miei trucchi sparissero ed è in collaborazione con jessica il suo canale qui su youtube è jessica mix un grandissimo bacione cara vi straconsiglio di passare dal suo canale perché è veramente una ragazza molto brava e simpatica e fa dei video veramente molto utili ed interessanti vi lascerò qui sotto nell'info box sia il link del suo video in collaborazione con me ma anche il link del suo canale e mi raccomando passate da lei perché merita veramente tanto iniziamo con le domande che sono 10 prima domanda se i tuoi trucchi sparissero allora se i miei trucchi sparissero la prima cosa che farei è cercare in ogni angolo della mia casa per vedere dove potrebbero essere stati nascosti i trucchi se riesco a trovarli sarei veramente contentissima ma se non riuscissi appunto a trovarli non succederebbe niente perché comunque questi non sono i problemi gravi della vita quindi va benissimo anche così seconda domanda per quanto tempo resisteresti senza makeup io non ho nessun problema a non truccarmi ecco io potrei anche uscire senza trucco per tutto il giorno anche alla sera non ci sarebbero problemi perché comunque non sono una ecco che è proprio sta proprio lì comunque a dire oddio adesso devo uscire mi devo truccare no se se io voglio truccarmi per uscire mi trucco se no io posso prendere uscire anche così e non c'è nessun tipo di problema poi terza domanda un prodotto che ricompreresti allora un prodotto che ricomprerei sicuramente il correttore perché ho delle occhiaie piuttosto marcate specialmente quando dormo poco la notte e quindi il correttore mi dà una grandissima mano per cercare appunto di coprire le mie occhiaie guarda domanda fai la lista dei 5 prodotti da ricomprare subito allora il correttore in primis o una matita nera o una matita colorata mascara ombretto e blush questi sono i 5 prodotti che ricomprerei subito poi quinta domanda quali sono i prodotti secondo te più versatili allora i prodotti secondo me più versatili sono il blush perché oltre ad essere applicato appunto sulle guance si può applicare benissimo anche come ombretto ed il correttore che oltre appunto a correggere le nostre occhiaie può essere utilizzato anche come primer occhi per appunto correggere le discromie della pepebra io direi appunto questi due perché sono quelli che secondo me possono essere più versatili di tutti quanti poi sesta domanda quali prodotti ricompreresti della tua collezione allora i prodotti che ricomprerei della mia collezione sono questi ultimi 5 che vi ho citato nella domanda precedente quindi il correttore il mascara qualche matita colorata e nera degli ombretti il blush e ecco magari una cosa che potrei aggiungere un lucidalabbra questi sono i prodotti che ricomprerei poi settima domanda a quale prodotto potresti rinunciare il prodotto a cui potrei rinunciare è il fondotinta perché sinceramente cioè io mi trovo bene e non ecco col fondotinta perché secondo me sarebbe meglio comunque far respirare la pelle e magari tenere solo gli occhi e le labbra truccate quindi secondo me il fondotinta se proprio non si hanno magari quei brufoli o quelle discromie particolari della pelle secondo me si potrebbe anche andare in giro senza fondotinta poi ottava domanda per la perdita di quale prodotto soffriresti di più allora soffrirei di più soffrirei proprio tra tante virgolette è il correttore perché appunto devo coprire appunto le occhiaie e quindi secondo me un prodotto appunto che mi dispiacerebbe non avere è il correttore poi non la domanda avendo la possibilità ricompreresti la tua intera collezione di makeup allora avendo la possibilità non ricomprerei tutta 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 la collezione di makeup che ho ricomprerei solo le cose essenziali quindi solo magari ecco magari un fondotinta un correttore mascara una palette di ombretti massimo due non di più qualche gloss un blush e appunto delle matite colorate e nere quindi questi secondo me se avessi la possibilità ricomprerei solo queste cose comunque e non comprerei tutto quello che ho adesso poi decima domanda ed ultima se il tuo makeup fosse sparito e non ci fosse possibilità di ricomprarlo cosa faresti? allora sinceramente se non ho la possibilità economica di ricomprare tutta la mia intera collezione di makeup non ne farei un dramma ecco perché comunque se non ho i soldi io i trucchi non li vanno a prendere quindi non cambierebbe niente sinceramente anzi forse sarebbe meglio così e comprare solo ecco quei pochi trucchi che possono andare bene anche per una base viso o magari un trucco molto semplice da tutti i giorni bene queste erano le 10 domande ve le lascerò qui sotto nell'info box così se magari volete rispondere anche voi al tag siete tutte taggate e niente ringrazio ancora tantissimo jessica per aver fatto questa collaborazione con me ti mando ancora un grandissimo bacione e ragazze vi aspetto anche su facebook vi lascerò qui sotto nell'info box il link della mia pagina facebook venite a trovarmi anche lì così possiamo chiacchierare di qualsiasi cosa e scambiarci consigli spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un po' di compagnia vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima ciao